Il risultato è un bel risultato che va sicuramente al di là delle mie aspettative, soprattutto perché c'è stato un calo dei votanti che probabilmente ci ha penalizzato, quindi bene così. Credo che abbiamo fatto una bella vittoria, abbiamo cercato un percorso più difficile, più impervio, ma un percorso che ci porterà lontano. La parte nostra è estremamente corretta ma anche molto trasparente, noi abbiamo utilizzato la rete per far sapere che cosa volessimo fare e credo che lo abbiamo fatto nella assoluta trasparenza, abbiamo messo tutti i nostri interventi su internet, su Facebook e questo dimostri appunto quello che volevamo fare, in modo anche nuovo di interpretare la politica e di comunicare con i cittadini. Una lettura secondo me legata a che quando si mettono in campo liste eterogenee, forze eterogenee, le somme sono sempre complicate da fare, invece noi abbiamo puntato su una serie di liste omogenee, un modo di fare politica omogeneo che secondo me è stato riconosciuto e premiato dagli elettori. Penso di sì, però lo volevamo fare a tutti i costi e mi sembra che abbiamo risposto all'appello dei cittadini che ci volevano di nuovo a fare il sindaco di Ariano.